buongiorno amici buongiorno amiche qui siamo con un nuovo box android e una nuova auto una toyota dell'amico riccardo allora il box è questo qui vi lascerò in descrizione nome e caratteristiche io lo pronuncio in italiano poi la pronuncia inglese la vedrete voi è scritto sei cane il box ha tutto un case in metallo quindi dissipazione del calore senza problemi e ha la porta sd e basta è un led di notifica quindi comunque il case è premium perché è tutto in metallo quindi scalda poco e non è rumoroso non credo abbia una ventola siamo connessi già alla usb della macchina abbiamo fatto l'accoppiamento del bluetooth al cellulare e in questo momento lo smartphone sta facendo tethering a questo box android allora box android che ha 2 gigabyte di ram android 11 32 gigabyte di memoria interna e udite udite ha il gps integrato non c'è l'alloggio per la sim telefonica quindi lo potrete collegare all'internet o col tethering del vostro cellulare o se avete un'auto con una sim propria utilizzerete la sim dell'auto oppure se avete una saponetta che dà i dati utilizzerete questa allora collegarlo è la cosa più semplice del mondo quindi lo inserite vi vedrà un dispositivo carplay lo collegate vi si apre questa schermata vedete è fluido nonostante abbia un processore che non è snapdragon è un rock rock chip comunque non ho notato rallentamenti o crash o crash di sorta adesso vedete possiamo collegarci a youtube lo fa velocemente e lo fa senza particolari problematiche insomma abbastanza prestante come come box vedete stiamo sentendo stereo all'interno dell'auto e e adesso quando ci riesco usciamo ok torniamo alla schermata principale se avete un account google vi collegate e scaricate le vostre app che avete pagato se siete un po birichini come me e avete delle apk andate qui su file manager e le apk che avrete messo nella sd del box o nella memoria interna del box le installate e andranno perfettamente c'è chrome non so che versione sia ma ho visto che è ben ottimizzata e è carina comunque da avere in macchina e anche abbastanza fluida netflix funziona riccardo poi l'utilizzerà per il suo account netflix io non ce l'ho però vedete è partito è partito subito senza particolari problematiche la chicca come vi dicevo è che ha il gps quindi vedete ci colleghiamo ci colleghiamo subito non usa il gps della macchina usa il gps del box è comodo avere maps avere maps in un box non tutti ce l'hanno gmail e va bene o funziona android auto noi ci siamo già collegati la prima volta vediamo un attimo quindi android auto si è collegato ma contemporaneamente si è scollegato il tethering dello smartphone quindi da questo momento android auto funziona funziona con internet del cellulare quindi come se voi foste connessi via cavo al vostro android auto ma in questo momento quindi quando va android auto il box giustamente avendo occupato il bluetooth e la wifi contemporaneamente il box verrà meno il tethering e quindi la connessione al box vedete non c'è più per quello che vi dicevo perché questi tipi di box funzionano bene se li collegate a una saponetta esterna oppure se come nel mio caso nella mia audi avete una sim inserita che dà il tethering a tutta l'auto quindi valutate un attimo se può fare al caso vostro però comunque una volta che noi usciamo da android auto non occupiamo più la wifi quindi il tethering si potrà riutilizzare come sempre nel display nel cruscotto vedete collegato un dispositivo o un dispositivo in questo caso vedete vi dà le informazioni sul dispositivo e nessun'altra informazione questi box sono belli perché potete utilizzare applicazioni come youtube come netflix che su android auto non vanno potete lanciare i vostri film dalla sd però non potete utilizzare il bluetooth dell'auto quindi per chiamare dovrete utilizzare questo questa funzione va bene adesso vedete facciamo una prova del 190 vedete chiamiamo tranquillamente però a questo punto non potete utilizzare le chiamate dell'auto ma dovete chiamare dovete chiamare attraverso il box che comunque utilizzerà il vostro numero di cellulare non è che dovete utilizzare utilizzare altro quindi come ho già detto sono box che hanno i loro vantaggi e i loro svantaggi secondo me questo box se lo trovate sui 100 110 euro è da prendere perché non ha grandi problematiche se poi invece volete uno slot per la sim volete un processore snapdragon 4 giga di ram avete visto che il prezzo sale anche anche notevolmente chiaramente l'alternativa a questi box come sapete sono a wireless card sci-fi che sono degli android to android quindi sfruttate solo la funzionalità wireless di android auto e nessuna delle altre funzioni che hanno questi questi box ho parecchie cosettine in arrivo soprattutto della 8 cast quindi credo che fine 2022 inizio 2023 ci vedremo con dei bei prodottini ciao